Cinque parchi gioco e attrezzati a Lucca da ristrutturare o realizzare ex novo. Il documento progettuale di fattibilità degli interventi è stato presentato a Palazzo Orsetti dal sindaco Pardini e dagli assessori Buchignani e Barsanti. Il progetto più impegnativo è rappresentato dal nuovo parcheggio e dalla nuova area giochi presso il campo sportivo di Nozzano Castello, strutture che la frazione attende da anni. Altro intervento importante è quello previsto a Ponte San Pietro dove un'area giochi sarà creata nello spazio verde davanti alla chiesa. Più vicino alla città un altro intervento è previsto a Borgo Giannotti dove saranno riorganizzati totalmente gli spazi esterni del Foro Boario, ma non è finita qui. A San Filippo si va a modificare e a reintegrare il parco giochi accanto al campino che abbiamo riqualificato lo scorso anno. A Mutigliano soprattutto dopo aver restaurato quest'anno il parco dell'immembranza andremo ad intervenire sul percorso vita che da metà anni 80 è un'attrazione di quella frazione, i residenti sono molto legati a quell'impianto e anche agli sportivi, quindi andremo a modificare e a sostituire quelli che sono gli strumenti non più adeguati e anche il percorso, il camminamento e le alberature. Questi interventi, ha spiegato l'assessore Buchignani, testimoniano l'attenzione del comune nel creare spazi aggregativi e strutture nelle frazioni. Sin dall'inizio sono state messe risorse importanti per i parchi giochi nelle frazioni, si è partito col 2025, il 2022 con 200 mila euro, si è andato al 2023 con 300 mila euro, siamo arrivati al 2024, poi proseguiremo, ma al 2024 con 430 mila euro di investimenti nelle frazioni per nuovi parchi giochi.